Arriverà a maggio il nuovo traghetto Blue Ferris, il mezzo in costruzione in un cantiere navale in Grecia. In questo momento si stanno eseguendo gli ultimi interventi e gli allestimenti. Dopo le prove in mare, l'unità navale sarà messa in servizio sulla rotta commerciale Tre Mestieri Villa San Giovanni. Secondo la tabella di marcia ipotizzata dai vertici della compagnia di traghettamento, che fa parte del gruppo RFI, ciò avverrà dal primo luglio. Con l'entrata in vigore dell'orario estivo, la nave, il cui nome è ancora Top Secret, avrà una velocità di 16 nodi ed una capacità di carico pari a 23 tir. Un investimento a 12 milioni di euro, con l'impegno successivo alla realizzazione di un'altra nave con simili caratteristiche tecniche. Qualche ritardo si è accumulato perché la consegna era prevista già per la fine dello scorso anno. Blue Ferris intende rilanciare il settore del gommato pesante. Del resto, dopo la chiusura del porto storico, tutte le attività della società si sono concentrate tra la Proda Sud e la Calabria. I dati relativi al trasporto dei mezzi pesanti confermano il trend positivo. Blue Ferris vuole fare concorrenza a Gruppo Calonte Tourist, che invece sta avviando un progetto di rinnovamento della flotta, con la costruzione di nuove navi alimentate a gas naturale liquefatto.